Ciao a tutti e benvenuti su TechGaming. In questo video vi illustrerò alcuni consigli per velocizzare Windows, soprattutto se avete un PC poco performante. Il primo consiglio, naturalmente, è quello di disattivare i programmi inutili dall'avvio del computer. Quindi tasto destro sulla barra dello start, gestione attività, avvio e da qui selezionate i programmi che ritenete inutili e cliccate su disabilità. In questo modo, quando accenderete il computer, non partirà il software da voi scelto, quindi dovrete lanciarlo manualmente. Ad esempio, nel mio caso, io ho alcuni programmi che mi servono all'avvio del PC ed altri invece che reputo obsoleti, come Steam che posso lanciare manualmente, utorrent, mega e così via dicendo. Quindi, scegliete i programmi che non vi servono al lancio del sistema operativo e cliccate su disabilità. Naturalmente, se avete un SSD, alla fine il PC si avvierà comunque velocemente, ma se avete un hard disk, vi consiglio di fare questa cosa. Il secondo consiglio è quello di accedere alle proprietà del sistema, quindi tasto destro proprietà qui e poi andate in questa schermata tramite le impostazioni avanzate e da qui potete cliccare su prestazioni e scegliere se volere un PC con l'aspetto migliore o le prestazioni migliori oppure sceglierle da voi. Quindi, se selezionate questa prima voce, il PC disporrà di tutti gli effetti. Con questa voce verranno disattivati tutti gli effetti, quindi diciamo verrà velocizzato il PC. Con questa potete scegliere. Naturalmente, se non avete un PC performante, io vi consiglio o di deselezionare quello che non vi serve o di cliccare qui, in questo modo tutte le voci vengono disattivate e cliccando su ok velocizzerete leggermente il PC. Poi, vi è un altro consiglio di cui vi ho parlato in un altro video, ma ve lo ripeto, è attraverso il tool pulizia disco. Quindi, selezionate l'hard disk principale e cliccate su ok. Attendete, andate su pulizia file di sistema e qui selezionate tutti i file inutili da cancellare, cioè le voci inutili, quindi che ne so, l'aggiornamento precedente di Windows, i programmi scaricati, la cache. Insomma, in questo modo potete liberare spazio e allo stesso tempo velocizzare il PC, perché un hard disk pieno di robaccia rallenta il computer. Un altro consiglio è quello di andare con il tasto destro sull'hard disk o SSD dove c'è installato il sistema operativo, cliccare su proprietà e fare sia la pulizia disco che vi ho mostrato prima, che la deframmentazione dell'unità e il controllo errori. Con questa prima opzione vengono controllati e fixati eventuali errori, con questa opzione viene deframmentato il disco, io vi consiglio di farlo almeno una volta a settimana. Poi esistono tanti e tanti software gratuiti tipo Wash & Go, CC Cleaner e così via dicendo, che vi permettono di pulire in maniera più approfondita il sistema operativo. Un ultimo consiglio è quello di disinstallare i software attraverso Revo Uninstaller, di cui vi parlerò in un prossimo video. Se questo video vi è servito cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento.